Non tornerà a casa dalla sua famiglia, almeno per il momento. Birba dovrà infatti restare in canile per i sei mesi stabiliti dalla legge. Lo stesso vale per Olivia e i suoi tre gattini, che si trovano invece al gattile di Firenze. E' così arrivato il parere dell'Istituto Zoo Profilattico delle Venezie sul cane e i mici, allontanati da casa ormai tre mesi fa dopo il decesso di un gatto perché affetto da lissa virus che conviveva con loro. Il parere dell'Istituto è stato diffuso dall'Asla Toscana Sud-Est a risposta a delle sollecitazioni arrivate nelle ultime settimane, una su tutte quella della famiglia che aveva richiesto a più riprese che gli animali le venissero restituiti per poter completare la quarantena a casa. Il rischio che gli animali posti sotto sequestro possano sviluppare la medesima sintomatologia del gatto deceduto rimane elevato per tutto il periodo di osservazione, si legge nella nota che prosegue. Diviene basso ma potrebbe non essere nullo anche nei mesi successivi. Si raccomanda dunque l'osservazione degli animali in una condizione di confinamento in cui si è limitato al massimo il contatto con i componenti del nucleo familiare. Pertanto risulta difficile assicurare in queste condizioni il mantenimento degli affetti e di uno stile di vita domestico fino alla fine del periodo minimo di osservazione. si ritiene che la cosa più sicura sia mantenere il cane presso un canile municipale perlomeno fino alla fine del periodo di osservazione previsto dalla normativa vigente e si suggerisce, concludono, di tenerlo monitorato anche dopo il rientro a casa per almeno un anno.